Nel comune di Capaccio Pestum con un'ordinanza sono state disciplinate le modalità di combustione di materiale agricolo e di scarti vegetali. Infatti ci saranno regole ben precise se si intende smaltire del materiale tramite combustione, materiale che da ora deve essere esclusivamente residuo vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole. La combustione inoltre sarà consentita da oggi fino al 14 giugno nelle seguenti fasce orarie dal 22 gennaio al 15 marzo dal sorgere del sole fino alle ore 8 e 30, dalle 15 e 30 al tramonto, dal 16 marzo al 14 giugno dal sorgere del sole fino alle ore 8 e 30, dalle 17 al tramonto. La quantità di materiale da bruciare dovrà essere limitata a 3 metri cubi al giorno per ettaro e il fuoco dovrà essere circoscritto per evitare il propagarsi di fiamme e fumo. È vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscano il ristagno della fumosità e durante il periodo in cui sia dichiarato dalla regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Il mancato rispetto di questo regolamento può comportare sanzioni fino a 500 euro. L'amministrazione Alfieri quindi prende degli importanti provvedimenti in un territorio ad alta vocazione agricola e spesso colpita da roghi boschivi dovuti a combustioni di materiale che non viene controllato adeguatamente e che si spera diminuirà grazie alla nuova regolamentazione.